Non solo l'indice di liquidità, anche l'IVA e il suo mancato versamento tengono il teramo fuori dalla prossima Lega Pro. Almeno per il momento, visto che pochi minuti dopo il risponso della Covizoc la società ha fatto sapere che presenterà ricorso e per questa ragione ha conferito mandato allo studio DCF Sport Legal per assisterlo e difenderlo, in una battaglia che però si preannuncia dagli esiti difficilmente positivi. Partiamo per punti, quelli che ha rilevato e contestato l'organismo di vigilanza delle società professionistiche. Chiaramente l'indice di liquidità, il parametro che si sapeva mancante. Sarebbe servito un ripianamento della carenza finanziaria che tocca il milione di euro, 975.490 euro. Una somma che qualora il teramo uscisse indenne dal procedimento sportivo che si aprirà sarebbe comunque da saldare. Poi c'è la questione relativa al deposito, di una relazione che attesti l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione sia sulla semestrale al 31 dicembre sia su quella al 31 marzo. Infine c'è il capitolo IVA, obblighi di pagamenti dei debiti fiscali relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. La società aveva chiesto una rateazione lo scorso 20 giugno a 48 ore dalla fine dei tempi per presentare la domanda di iscrizione. Pur avendola presentata in extremis, l'agente della riscossione, si legge, non ha ancora fornito nessun riscontro né elaborato un piano di ammortamento. Ne deriva che al termine perentorio del 22 i debiti erariali menzionati non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale, tale da permettere la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento. Una situazione nera, nerissima, anche peggiore di quanto ragionevolmente ci si potesse attendere nei giorni scorsi. Quando accanto alle perplessità sul famoso indice di liquidità era balenato un filo sottile di ottimismo per la pronuncia tar che tuttavia non aveva nulla a che vedere con il merito della vicenda a Teramo. I debiti con l'erario e la cifra a monstre per ripianare sono spie evidenti di una situazione complicata che adesso il legale Cesare Di Cintio proverà a ribaltare. Ma le speranze sono davvero ridotte a lumicino? Il Consiglio federale dell'8 luglio sarà chiamato a definire gli organici? Dire che ci sarà anche il diavolo oggi è un esercizio davvero complicato. Anche il campo basso rischia la stessa sorte sportiva. Fermana e Torres adesso sperano e hanno, stavolta davvero, fondati motivi per farlo.